Va avanti la terza rassegna musica per i primi. A questo terzo appuntamento assisteremo a un concerto di musica classica di un ragazzo di appena 16 anni. Colgo occasione per ringraziare il comune di Cardito che ha patrocinato questo evento, che parla con l'omincio della padrocchia di San Diofemia, sempre San Diofemia. E l'assessore, in particolare l'assessore di ricostruzione Andreina Rucci, il comune di Cardito, che ha patrocinato questa vita. Grazie per l'attenzione, buon ascolto. 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 Grazie per l'attenzione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.